La nostra è una lotta perché abbiamo perso i figli e quindi questa cosa che sappiamo cosa significa e quindi sapere un altro morto sulla strada ci fa male. Troppe morti, troppi incidenti, troppe vite stroncate. Una vera e propria battaglia per la sicurezza stradale che sembra aver trovato un epilogo risolutivo. Nella giornata di martedì il comune di Pozzuoli ha avviato i lavori per la realizzazione di una rotonda nei pressi del depuratore di Cuma Licola, al crocevia tra via Montenuovo Licola Patria, via dei Platani e via Licola Pozzuoli. L'associazione Famiglie Vittime della Strada, unitamente al Comitato Riqualificare Licola e alle Mamme Coraggio guidate da Rosa Di Bernardo, hanno finalmente ottenuto che l'incrocio killer, dove erano state travolte persino le croci bianche deposte in memoria delle vittime, venga sottoposto a un più adeguato sistema di regolamentazione del traffico. Finalmente dopo tante battaglie siamo riusciti a fare la rotonda qua dei depuratori, una rotonda pericolosa con molti incidenti anche mortali e quindi fare battaglia vuol dire che alla fine ci riusciamo. E' molto importante che le persone ci stanno vicino, io ringrazio un po' tutti quanti della vicinanza delle persone, dei carabinieri, un po' tutti. Con noi anche Umberto Mercurio e grazie anche a Umberto che siamo riusciti a ottenere questa cosa, è un punto molto importante e noi ne siamo molti contenti. A un periodo di sperimentazione che prevede il posizionamento di rotatorie con blocchi di New Jersey, seguirà la vera e propria realizzazione di due manufatti rientranti in un più ampio progetto di pianificazione stradale, di cui si è fatto carico l'assessorato ai lavori pubblici di Pozzuoli guidato da Mario Marrandino. Finalmente si parte con i lavori, voi sapete che nel programma dell'amministrazione Figliolia è presente l'eliminazione, lì dove è possibile, dei semafori e creare delle rotatorie, così come Piazza Capomazza, riproporre la rotonda sul lago d'Averno, Arco Felice e quindi qui. Qui abbiamo iniziato con la sperimentazione perché qualsiasi rotatoria si inizia sempre con lo sperimentare. Dopo qualche mese, se ci sono problemi da risolvere, è stata progettata la doppia rotatoria qui a Licola e sono certo, almeno i tecnici, gli ingegneri che l'hanno programmata, sono sicuri e certi di eliminare tutti i problemi che questa zona ha avuto fino ad oggi. 250.000 euro i fondi stanziati per il programma, che nella fase iniziale avrà la durata di due mesi e si servirà di tecnici per monitorare il flusso veicolare. Un atto dovuto dunque, un segno di cambiamento e di fondamentale attenzione alla sicurezza della popolazione.